Benvenuti amici, oggi vi racconterò la storia di un'azienda di automobili cinese che produce automobili elettriche, la NIO Automobili. Perché si chiama NIO? Tutto è iniziato quando ero un bambino perché trovai i giacimenti di petroli in Val d'Agri. Siccome non mi potevo chiamare Francesco Iadareste, il mio nome e cognome, mi chiamai Eugenio, Eugenio Cefis, un nome inventato. C'è significa il prefisso di caserta, quindi c'è il prefisso di caserta, fisse e un nome a caso. Allora praticamente disegnai il cane a sei zampe, il cane dell'ENI e nacque l'ENI e quindi mi si nomi l'azienda ENI in onore a mio nonno paterno che sarebbe il suo nome, il cognome e i idrocarburi. E dopo l'Italia, siccome io ho donato una parte del capitale allo Stato italiano, lo Stato italiano dice che ENI significa internazionale di idrocarburi. A me non mi interessa tanto, però l'importante è che io ho il 70%. Quindi praticamente mi si nome questo Eugenio e quindi nel 1988, circa 1989, fondai per delega la Tesla, questa azienda. Mia nonna, ingegnere elettronica Antonietta Miele, ve la faccio vedere, io le disegnai, mia nonna le progettò, inventammo la macchina elettrica e quindi nacque la Tesla, in onore a Tesla, un nome inventato, mai un nome inventato che mettiamo noi, delle bugie che hanno inventato nel campo delle televisioni. Quindi nel 94 i cinesi ci chiamarono e utilizzando dei disegni miei e dei progetti di mia nonna insieme ad altri ingegneri, fondammo, inventammo quindi tra virgolette la NIO, che sarebbe il diminutivo di Eugenio. Questo qua è il marchio, ve lo faccio rivedere, che non ho fatto io. L'ho descritto ma non l'ho fatto. E quindi nacque questa azienda che si trova a Shanghai, è una grossa città, a Shanghai e io sono un azionista molto importante, quasi totalitario delle azioni. Oltre a fondare la NIO nel 94 insieme alla Lenovo, ho fondato questa azienda, è un'azienda della volvola, Polestar, che fa anche automobili elettriche, che faccio io, mia nonna e degli ingegneri a noi accreditati, che hanno a che fare con noi, dei bravi ingegneri, che non vogliono essere nominati. Quindi tutte le macchine elettriche del mondo, tutte le aziende di macchine elettriche che producono solo macchine elettriche, sono mie. Quelle là che ho fatto io proprio, e sono le Tesla insieme a mia nonna. Mentre queste qua le abbiamo fatte sempre mia nonna, però le ho disegnate sempre io, però insieme ad altri ingegneri. Vi ho detto tutto, mi chiamo Francesco Iadaresta, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, vi iscrivetevi al canale, non vi dimenticate. Arrivederci.